Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il Vangelo di questa domenica ci consegna due parabole preziose per capire un po' meglio come agisce Dio nel nostro cuore e nella nostra storia. Nella prima parabola Gesù dice il regno di Dio è come un seme gettato in terra da un uomo, dorma ovegli il seme cresce e neanche lui sa bene come. Ecco miei cari, Dio agisce così. Quando trova spazio nel cuore, quando la sua parola viene accolta, man mano germoglia e cresce, progressivamente ci trasforma in un modo che neanche noi fino in fondo riusciamo a spiegarci. Attenti, questo non vuol dire che il Signore agisca magicamente, senza bisogno della nostra collaborazione. Chiaro, noi siamo chiamati a corrispondere, a dire i nostri sì, ma Gesù vuol sottolineare che la presenza di Dio è viva, efficace, che la parola di Dio opera, proprio come dice San Paolo, la parola di Dio opera in voi che credete. Vi faccio un paio di esempi semplici. Un detenuto ascoltò una predicazione sulla misericordia di Dio. Il seme di quelle parole entrò e toccò così profondamente il suo cuore da suscitarne un reale pentimento. Pianse amaramente, dopo tempo si confessò e iniziò a vivere una vita nuova in Cristo. E ancora, una suora anziana raccontò la sua testimonianza, disse, quando ero piccola andavo a lavare i panni al torrente con mia mamma. Un giorno vidi due suore che lavavano una montagna di panni sotto il sole al caldo, eppure erano felici, interagivano gioiosamente con tutti, ridevano, e pensai, anche io un giorno vorrei essere come loro. Crescendo, questo semino vocazionale crebbe e maturò la chiamata alla vita consacrata. E ancora, pensiamo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Quando ancora era un giovane, nel mondo, abborriva i lebrosi. Pian piano iniziò poi a scoprire il Vangelo, e un giorno si sentì spinto a mettere in pratica quanto meditato, cercando di riconoscere Cristo proprio nel lebroso. Gli andò incontro, lo abbracciò, lo baciò, e interiormente sentì come una trasformazione. Quello che prima gli sembrava dolce divenne amaro, le attrattive del mondo, e ciò che gli sembrava amaro divenne dolce. Lo stare con i poveri, servire i lebrosi. Ecco, miei cari, come le parole del Vangelo, accolte nel cuore e poi vissute, abbiano operato un cambiamento che sfuggiva persino a lui. Mie cari, questa prima parabola ci ricorda che la vita nuova che Cristo ci offre non è un prodotto dei nostri sforzi, ma un dono da accogliere. I padri della Chiesa dicevano che il Vangelo è il seme di Dio. Tu lo accogli e nella misura in cui lo custodisci e alimenti il rapporto col Signore, vedrai fiorire in te una vita più bella, sentimenti più nobili, una capacità di amare più grande. Tutto questo è molto importante. Vedete, tante volte noi tendiamo a essere volontaristi. Pensiamo che per farcela basta volerlo, che con un po' di impegno in più si risolve tutto. Quante volte abbiamo anche ridotto la fede a una serie di sforzi per fare i buoni, magari per sentirsi a posto o meritare qualche grazia, scoprendo poi amaramente una profonda verità, che la buona volontà serve e come, ma da sola non basta. Serve la grazia, serve l'aiuto del Signore. Il cuore non lo cambiamo da soli. Solo Dio può operare in noi una misteriosa trasformazione, togliere il cuore di pietra e darci un cuore di carne. Tutto ciò, Lore miei cari, ci ricorda che la vita nuova è un dono di Cristo e che dobbiamo ripartire da quel seme buono, dal primato di Dio e della sua parola nella nostra vita. Come dice l'Apostolo, è lui che suscita in noi il volere e l'operare secondo i suoi disegni. Ed ecco che Gesù nella seconda parabola completa in un certo senso questo discorso. Ci dice che il regno di Dio è come un granello di senape, è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta appiantato e poi man mano cresciuto diventa la pianta più grande di tutto l'orto, al punto che anche gli uccellini trovano riparo tra i suoi rami. Questa parabola ci dice il DNA di ciò che viene da Dio. Le cose che vengono da Dio partono dal piccolo, umanamente sembrano insignificanti, eppure nel tempo crescono e diventano solide, significative, portando del bene nella vita degli altri. Ecco, questo, miei cari, ci fa bene e ci aiuta a cambiare mentalità e anche a liberarci o quantomeno gestire alcune ansie, come l'ansia dei numeri e quella del tutto e subito. Anzitutto l'ansia dei numeri. Quante volte pensiamo che la qualità di di una iniziativa pastorale o di una realtà ecclesiale sia determinata dalla quantità. Spesso la prima domanda è, eravate in tanti? Quanti siete? Mentre invece sarebbe opportuno chiedere di che qualità siete? È servito alle persone che hanno partecipato? È qualcosa che fa davvero bene alle persone, le aiuta a crescere? Ciò che conta, anche a livello ecclesiale, non è fare eventi che attirino le masse, ma proporre percorsi che aiutino le persone a crescere nella fede, a livello comunitario. Come disse Benedetto XVI, questo non è il tempo dei grandi numeri, delle masse, ma del seme, di comunità piccole ma credenti, significative. Ricordiamolo, le cose che vengono da Dio crescono nel tempo e non diventano necessariamente grandi a livello quantitativo, ma di certo diventano significative a livello evangelico. E poi, miei cari, questa parabola ci aiuta con l'ansia del tutto e subito. Questo in primis ci ricorda che la vita spirituale, che chiaramente va coltivata, ha un suo ritmo, cresce gradualmente, un po' come la vita biologica, come il nostro corpo. Ed è Dio che detta il tempo. Noi non possiamo forzare i tempi, semmai possiamo agevolarli cercando di coltivare il bene giorno dopo giorno, e senza scoraggiarci davanti ai fallimenti. Quante volte ci abbattiamo? Nonostante gli sforzi, ci sembra di non vedere alcun cambiamento, di cadere sempre nei medesimi peccati, di girare a vuoto nei nostri limiti. Il rischio è pensare che non ne valga la pena, che non stiamo crescendo, che non serva a nulla. Invece la logica del granello di senape ci invita alla speranza, sapendo che Dio è all'opera anche adesso. Cosa significa? Che forse in questo momento non sto crescendo in quella virtù, ma mi ci sto esercitando e comunque il Signore, proprio grazie a questa difficoltà, mi sta aiutando a crescere su un altro versante, ad esempio a diventare più umile, a essere meno volontarista e a confidare un po' più in Lui, o sto diventando più misericordioso verso gli altri. O pensate anche al rapporto con gli altri. Quante volte pensiamo che una persona cambi dall'oggi all'indomani solo perché le abbiamo detto alcune cose? Oppure adottiamo la modalità martello pneumatico, ti martello finché non lo fai, ma così facendo si potranno ottenere aggiustamenti superficiali, non cambiamenti profondi. Questi ultimi avvengono solo nel tempo e accadono perché la persona comprende, interiorizza, matura e perché ciò accada è importante che seminiamo parole ed esempi belli, dando però anche alla persona il tempo di crescere, confidando nel Signore che quei semi a suo tempo potranno germogliare e portare frutto. Questo vale anche per i nostri progetti, nell'ambito vocazionale, le cose solide che vengono da Dio non nascono già pronte, si costruiscono strada facendo, camminando, mettendosi in gioco e nonostante le difficoltà vanno avanti, crescono e maturano. O pensate anche nella pastorale, quante volte ci scoraggiamo non vedendo risultati immediati. Questa parabola invece ci ricorda, tu continua a seminare, se è buon seme a suo tempo crescerà, man mano porterà frutto. Forse in alcuni ambiti noi non li vedremo questi frutti, li raccoglieranno altri, ma non importa. Ciò che conta è che stiamo cercando di seminare buon seme, semi d'amore vero, un sorriso, un buon consiglio, un invito a pregare, dare un esempio edificante, e allora possiamo esserne certi. Se stiamo seminando buon seme a suo tempo vedremo germogliare attorno a noi tanto bene, e anche se così non fosse, di certo un giorno lo raccoglieremo in cielo. Proprio come accadde a quel missionario, che dopo essere ritornato al suo paese, dopo 30 anni di missione, fu accolto solo da 4-5 persone. Al contempo un famoso cantante fu accolto da una folla oceanica, ne rimase un po' rammaricato, e la notte fece un sogno come un bambino, sognò Gesù che gli sorrideva e gli diceva, figliolo perché sei triste? E signore mio hai visto, sono tornato a casa e non c'era nessuno ad accogliermi. E Gesù sorridendogli, ma figlio mio, tu ancora non sei tornato a casa, vedrai un giorno quando tornerai ciò che io sto preparando per te. Dunque coraggio, e che la logica del seme e del granello di senape possano aiutarci a leggere le cose e a viverle un po' più secondo il cuore di Dio. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti.